Ehi, tesoro! Ciao, ragazzi! Vorrei parlare... Non è in coma. Non sanno come definirlo. Ora! Sono stata in camera di Dalton. C'è qualcosa lì con lui. Dottor Dalton! Conosco qualcuno che può aiutarvi. Abbiamo controllato i campi magnetici della casa. Impianti elettrici e sveglie. Non credo che il problema sia l'impianto elettrico. Voglio andarmene! Voglio andare via da qui! E' malefico! Lasso! Che cos'è? Non è la casa che ha infestata. È Dalton! Grazie a tutti.